bentornati nell'ultimo video abbiamo visto un filtro dalla galleria filtri che permette di simulare la visione attraverso un vetro smerigliato beh oggi andremo a vedere sempre in galleria filtri l'effetto vetro che dà la possibilità di avere ancora più controllo sul tipo di vetro attraverso il quale andiamo a guardare la nostra immagine infatti vediamo che qui abbiamo la tab texture che avevamo già visto per altri filtri in cui possiamo scegliere vetro smerigliato che è pressoché identico al filtro che abbiamo visto l'ultima volta ma possiamo anche selezionare cubi di cui poi possiamo andare ad aggiungere una distorsione e possiamo andare ad aggiungere una sfumatura e possiamo cambiarne la dimensione qui possiamo andare molto in profonda età a decidere attraverso quale tipo di vetro stiamo guardando la nostra immagine e devo dire con un realismo che mi sorprende nel senso che è molto molto ben fatto possiamo andare a sostituire con tela quadro questo non è molto realistico come vetro diventa diventa più simile a non lo so a un qualcos'altro abbiamo però smerigliato che replica più o meno lo stesso effetto che abbiamo già visto appunto nel video precedente però qui con possibilità maggiori perché è possibile personalizzarlo molto di più molto più in profondità dopodiché c'è l'opzione piccole obiettivi anche questo molto carino anche qui più che un vetro quasi mi sembra una stampa su plastica o un effetto di un altro tipo vale comunque la pena di sapere che c'è perché secondo me si possono ottenere degli effetti molto molto interessanti da questo effetto che si chiama appunto vetro ed è dentro nella cartella distorsione della galleria filtri di photoshop ci si potrebbe giocare pressoché all'infinito e le opzioni valgono quasi tutte la pena di essere sperimentate ovviamente non andranno sempre bene dipende dall'immagine su cui stiamo lavorando però se vogliamo per esempio simulare la visione attraverso una porta a vetri con vetro smerigliato e con trama a quadri questo effetto è fantastico